buongiorno vorrei un biglietto per vedere la gioconda certo con il biglietto può vedere tante opere del louvre sono 17 euro a 17 euro ma se vedo solo la gioconda posso avere uno sconto i biglietti sono a prezzo fisso sì ma mi interessa solo la gioconda deve prendere il biglietto intero guardi le do 5 euro e le giuro che guardo solo la gioconda non può farlo deve prendere il biglietto intero ma che palle 17 euro per un museo è un pranzo al sushi ha per caso un barattolo di purè sotto il cappello è solo contento di andare al museo sono contento di andare al museo bene perché ultimamente stanno arrivando molti vandali che gettano purè sulle opere wow e per quale motivo abbo a titolo puramente informativo se dovessi buttare no del purè su un quadro no le guardie mi sparerebbero vuole buttare del purè su un quadro no no intendo anche se mi dovesse tipo cadere cadere magari ecco sto mangiando del purè uno no da dietro mi spinge e mi cade un po sul quadro non credo che le guardie le sparerebbero bene bene ottimo grazie mille mi è stata di grande aiuto mi è stata di grande aiuto prego eccola lì la gioconda in tutta la sua famosità coraggio stegosandro è il tuo momento la gente deve sapere fallo per chi ti vuole bene ascoltatemi tutti ascoltatemi finalmente ho l'attenzione di tutti questa la mia occasione basta usare il piuttosto che per dire oppure il piuttosto che significa invece di smettetela di usarlo male hai rovinato la gioconda non c'è cultura se non impariamo a parlare bene poi stai tranquillo che c'è il vetro non c'è il vetro è stato tolto momentaneamente per restauri come sono gli unici cinque minuti in cui la gioconda è esposta senza vetro ma no ma guarda che il vetro non si vede ma hai rovinato il quadro più importante del mondo no ma 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 no ma sì ma anche voi però ma lasciate la gioconda senza vetro un ragazzo ha rovinato per sempre la gioconda di leonardo da vinci una tragedia sarebbe stato meglio se avesse rovinato un giotto piuttosto che un tiziano piuttosto che un cimabue e invece ha scelto proprio il protagonista del film il codice da vinci non volevo mi dispiace va contro le regole ma il mio cuore mi dice che devo spararle che succede senta sono già in mezzo a un casino manca solo che venga a rompere uno stupido vecchio come lei stavi dicendo il sindaco di lignano in carne croissant signor sindaco di lignano questo ragazzo ha rovinato la gioconda faccia un passo indietro che devo sparargli aspetti giovinotto ammiro il suo zelo ma mi facci vedere prima se si può fare qualche cosa questa macchia gialla fa parte del quadro no capisco capisco è un bel problema mi aiuti signor sindaco mi faccia vivere almeno fino alla pensione provo un attimo a sistemarlo cosa fa impazzito io credo in lei nella scienza nel cuore delle carte yugioh 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 hop leila ecco fatto ma è tornato pulito non l'ho pulito sciocchino sarebbe stato impossibile l'ho dovuto sciogliere con l'acquaraggia e poi l'ho ridipinto da capo ma come ha fatto senza vedere l'originale ma se la gioconda era la brutta coppia di isabella gonzaga mi è bastato ridipingerla con i colori spenti e fare il giochino degli occhi che ti seguono sembra addirittura meglio dell'originale grazie signor sindaco mi ha salvato il sopracosce che cavolo volevi fare qui tu che non vai mai al museo volevo trasmettere un messaggio importante in modo che tutti mi stessero ad ascoltare coso rischiare di danneggiare un'opera inestimabile come quella di lamberto da vinci leonardo solo per dire che il petrolio fa male mi pare un po esagerato ma io l'ho fatto per dire come si usa il piuttosto che ah beh allora avresti dovuto darle fuoco la prossima volta lo farò ottimo ora continuo il mio giro se vuoi unirti sono insieme al mio amico tony io sensibilizzo con l'ironia ma quello è it preferisce hi him la prima regola per far divertire la gente è trasformarsi in un ragno gigante ragno gigante ha senso se sei in piazza però attento a non invadere l'area che ti è stata assegnata dal comune altrimenti rischi una sanzione area assegnata dal comune se vedi dei caramba scappa